Basta con queste basi noiose pre-registrate, senza musicisti e questi che rappano sopra delle stronzate, cioè pure voi, perché non suonare degli strumenti veri? Eh, ma noi ci proviamo a suonare degli strumenti veri, ma non ce la fate, non ce la facciamo. Un crossover proprio di culture, cioè dei nerd, perché il musicista serio è un buon nerd, poi loro conservatori, Gens, eccetera. Sono precisi. E l'MC, cioè di solito il nerd è l'anti-MC, in qualche modo. Alla fine sì, però se il nerd si passa dei nerdismi che sono uguali a quelli dell'MC, è già amore, no? Allora dovete sapere che ci sono questi due romanzi di Bjorn Larson. Uno è la vera storia del Pirata Long John Silver e altro è le altre avventure che dovete leggere, perché sono straordinarie. Mettere in vacanza è una figata. Perché ti piace Long John Silver? Perché la vera storia del Pirata Long John Silver mi è stato regalato dai miei fratelli. Io giro un sacco sui mezzi a Milano e pensavo che alla fine Long John Silver non è descritto bene da Bjorn Larson, non è descritto come un personaggio. Esatto, è che porta la sua anarchia all'interno di un sistema ipercomplesso e quadrato come quello della Maria. Sì, alla fine lui secondo me è un loser di classe. E però funziona bene come lui, cioè ha una mentalità incredibile. Ma a me piacciono i loser, a te no. Anche a me piacciono.